Ben trovati, quarto appuntamento con il nostro racconto d'eccezione del From Silence, il festival estivo organizzato dall'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Siamo nel cuore del Palazzo Chigisaracini, in particolare nelle stanze adibite all'ospitalità con l'Art Café, un museo a cielo aperto, vedete le bellissime opere che ci circondano, una mostra in questo momento in corso che vi abbiamo già anticipato nella scorsa puntata. Come sempre abbiamo una guida d'eccezione, il direttore artistico, il maestro Nicola Sani e oggi apriamo con una grande ospite, maestro. Grazie, grazie mille e ben trovati a tutti i telespettatori di Canale 3, sono davvero felice di essere di nuovo qui a potervi raccontare la bellissima storia del Festival dell'Accademia Chigiana, del Chigiana International Festival che fino al 2 settembre vi accompagnerà con concerti meravigliosi tutti i giorni, tutte le sere e in tanti luoghi diversi, a Siena e non solo. Quindi oggi abbiamo una puntata splendida, come Virginia ha ricordato, con ospiti molto importanti, ma prima di andare ai nostri ospiti partiamo subito col concerto di oggi. Oggi abbiamo una giornata intensa, anzi un doppio appuntamento. Il primo appuntamento è a Palazzo Chigi Saracini per parlare di Luigi IX. Luigi IX è un grande compositore, un compositore veneziano del secondo novecento, è stato un nome importantissimo per la musica di tutto il mondo e noi quest'anno lo vogliamo studiare proprio perché siamo un'accademia che non soltanto propone musica ma anche parla di musica, racconta la musica, la spiega a tutti gli ascoltatori. Quindi raccontiamo un po' la figura di Luigi IX a cui si dedica questa sera il concerto conclusivo del focus del Chigiana International Festival che si intitola From Silence. Il focus dedicato a Luigi IX lo abbiamo voluto intitolare Un silenzio inquieto, sì perché nei suoni di IX c'è molta memoria del silenzio ma soprattutto il rapporto tra suono e silenzio è indagato da IX nella maniera più profonda. E questo andare nel profondo, andare a cercare dentro al silenzio le radici del suono caratterizza gran parte della sua musica e della sua poetica. Ne parliamo alle 18.30 con Veniero Rizzardi e Stefano Iacoviello. Veniero Rizzardi è uno dei massimi esperti della musica di Nono e quindi sarà con noi e sarà una guida veramente molto importante alla riflessione che questi concerti ci porta a fare. Abbiamo ascoltato delle musiche di Nono bellissime in questi giorni, il diario polacco numero due, Das Atmen der Klarsein, Quando stanno morendo, il bellissimo Guai ai geli di mostri e tanti altri lavori che ci hanno fatto riflettere. Questa sera invece ascolteremo nell'ultimo lavoro una composizione particolare per percussioni e live electronics. Si tratta di con Luigi Dallapiccola. Con questa opera Nono ha voluto rendere omaggio a quella che è stata una delle più grandi personalità del secondo novecento, anche importante per l'Accademia Chigiana. Luigi Dallapiccola è stato molto all'Accademia Chigiana, è stato vicino al conte Guido Chigi Saracini e quindi è importante e significativo che questa sera si esegua questa composizione con il Chigiana Percussion Ensemble diretto da Antonio Caggiano, il docente di percussioni, il live electronics meravigliosamente realizzato da Alvise Vidolin, Nicola Bernardini, Giulian Scordato e tutta l'equipe del corso di live electronics, appunto nella chiesa di Sant'Agostino l'appuntamento è per le 21.15. Ma non c'è soltanto Nono in questo concerto, un'altra bellissima composizione, sempre nel tema vicino al silenzio, bianco ma non troppo, di Martino Traversa per flauto ed elettronica e il capolavoro di Salvatore Sciarrino che sembra un po' un manifesto del nostro festival, cantare con silenzio. Si può cantare con silenzio? Lo scopriremo questa sera in questa bellissima esecuzione che vede Livia Rado, soprano, una star assoluta del canto lirico contemporaneo con i cantanti, le voci del solista del coro Guido Chigi Saracini, la formazione di casa diretta da Lorenzo Donati e una serie di interpreti strumentali con anche il Chigiana Percussion Ensemble, non posso l'elenco, sarebbe molto lungo. Vi dico però che a dirigere questa complessa esecuzione misteriosa, magica e come sempre in sciarrino estremamente affascinante nei suoni e nelle voci sarà Marco Angius, uno dei migliori interpreti della musica contemporanea. Quindi appuntamento alle 21.15 con il progetto Un Silenzio Inquieto, il quinto e ultimo episodio dedicato alla musica di Luigi Nono e dintorni naturalmente, alle 18.30 ne parliamo al Chigiana Art Cafè a Palazzo Chigi Saracini con Stefano Iacoviello e Veniero Rizzardi e questo succede oggi, ma il festival va avanti prepotentemente nei prossimi giorni. Assolutamente, oggi c'è tutto, gli appuntamenti che vi ha raccontato il maestro Sani, ma altrettanto belli gli appuntamenti che ci aspettano per la giornata di giovedì 28 luglio qui a Palazzo Chigi alle 18.30 per la serie Lounge ci sarà Gioacchini Rossino e Silenzio si ride con Cristiana della Chiara come direttore generale del Rossini Opera Festival che sarà presente insieme a Matteo Giuggioli, musicologo dell'Università Roma 3 e sempre con la conduzione del nostro Stefano Iacovelli. Sempre spostandoci nella data del 28 giugno, luglio scusate, ci spostiamo al Teatro dei Rozzi alle 21.15 l'appuntamento con In Cammino. Maestro, questo è un appuntamento meraviglioso. Meraviglioso, è uno degli appuntamenti per cui uno dice sono andato al Chigiana Festival quest'anno e ho visto una delle cose che resteranno penso nella nostra memoria. È un concerto straordinario anche perché la formazione che lo interpreta è una formazione che non si è mai vista, si è realizzata, si è concretizzata, si è materializzata qui all'Accademia Chigiana con tre grandissimi interpreti del nostro tempo. Ma non voglio togliervi la sorpresa perché la più grande sorpresa è avere alla mia destra Lilia Zilberstein. Buongiorno a tutti, con Antonio Minesis noi lavoriamo da tanti anni, proprio dal penso dal 2012, quasi tutte le stagioni è suonato qualcosa insieme, musica da camera con violoncello in trio, ma con il Ja Green Golds facciamo la prima volta e noi tutti aspettiamo con tante emozioni, grandi emozioni. E anche questa musica che noi sonneremo porta grandi emozioni, trio di Schubert, fantastico, un pezzo dove un quarto movimento, già posso stare un pezzo separato, un trio separato. E anche trio di Brahms è un grande pezzo di storia di musica. Io ho registrato un anno fa in Austria, ho registrato tre trio di Brahms e anche trio con Clarnietto, che è un violinista suonato a viola. E allora conosco adesso musica da camera di Brahms in questo modo, sono nato anche in mia vita secondo quartetto, sono nato tante volte quintetto di Brahms e allora anche questo pezzo incredibile di secondo trio. Che tra l'altro piaceva moltissimo a Brahms, Brahms era molto felice di questa sua composizione. Perché è musica felice. Perché è musica felice. Grazie Lilia, una bellissima testimonianza, il concerto è da non perdere. 28 luglio, Teatro dei Rozi, ore 21 e 15, Ilia Gringols, Antonio Menezes, violoncello, Lilia Zilberstein, pianoforte, il programma è eccezionale, Schubert, trio numero due, mi bemolle maggiore, opera 100. Molti del pubblico conoscono questa musica perché è stata utilizzata molto, ha una parte importante nel film Barry Lyndon di Stanley Kubrick, tra l'altro, ma è una musica famosissima, è uno dei più bei tri, come diceva Lilia Zilberstein, basterebbe il quarto movimento e già quello è un pezzo a sé. È un pezzo tra veramente i più bei pezzi mai scritti nella letteratura musicale dell'Ottocento in assoluto. E poi il trio numero due in do maggiore, opera 87 di Johannes Brahms. Quindi veramente un concerto a cui tutti siete invitati a partecipare, è un'occasione da non perdere, tre interpreti che si incontrano per la prima volta nella loro storia, tre interpreti leggendari che si incontrano per la prima volta nella loro storia all'Accademia Chigiana. E scusate se poco possiamo dire che ne siamo molto orgogliosi. Grazie. E questo è il grande lavoro, la grande magia della famiglia dell'Accademia Chigiana che da quasi ormai cento anni intreccia storie di grandi artisti, storie di vita, storie di grande affetto, che è quello che emerge ormai noi sono anni che insieme al Maestro Sani vi raccontiamo dal vivo e diretti protagonisti e il lavoro dietro le quinte del Maestro Sani e tutto lo staff dell'Accademia Chigiana e vedete come questi legami umani siano veramente la base di questa grande storia. Facciamo un break per un cambio ospiti, rimanete con noi, continua il racconto della grande musica. Ogni sera è un appuntamento imperdibile e non è un aggettivo che usiamo impropriamente ma vi stiamo raccontando e testimoniando perché sono imperdibili gli appuntamenti di From Silence. Allora intanto ci hanno raggiunto dei graditissimi ospiti, Stefano Iacovello non ha bisogno di presentazione, lo conoscete benissimo, passo la parola al Maestro per invece presentare gli ospiti alla sua destra. Sì, abbiamo un grande parterre oggi e alla mia destra Francesco Dillon, celebre violoncellista nonché anche membro del quartetto Prometeo che è il quartetto in residenza del corso di composizione all'Accademia Chigiana, oltre che protagonista di tantissimi concerti e attività diverse e una new entry, alla mia destra abbiamo Nicolo Suppa che è uno dei due direttori d'orchestra che dirigerà l'opera di Gioacchino Rossini, il signor Bruschino, a cui adesso dedichiamo un bello spazio perché è una delle produzioni centrali del festival di quest'anno. Il signor Bruschino è realizzato dal Chigiana Opera Lab che è diretto e coordinato da Daniele Gatti, William Matteuzzi con la collaborazione di Luciano Accocella, di Lorenzo Mariani, di William Orlandi, di uno staff e di un'equipe veramente ormai consolidata che produce per le varie competenze, regia, direzione d'orchestra, regia, scene, scenografia eccetera, un'opera in forma scenica completa e un'opera importante perché con il signor Bruschino entriamo anche nel grande repertorio lirico internazionale. Quindi una grande emozione ritrovare l'opera a Siena, ritrovare l'opera a Chigiana e soprattutto dare vita a una nuova produzione con tutti gli allievi dei corsi estivi dell'Accademia. Bene, io direi andiamo con ordine perché cominciamo con la giornata di venerdì 29 luglio che è una lunga giornata piena di appunti intesa. Cominciamo addirittura a mezzogiorno per cui abbiamo subito il primo appuntamento alle 12 con il concerto finale del corso di clarinetto, uno dei corsi centrali dell'Accademia Chigiana tenuto da Alessandro Carbonare, grande clarinettista, primo clarinetto dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Alessandro Carbonare ha fatto un concerto straordinario qualche sera fa nell'ambito del festival. Lo ritroviamo appunto proprio nel ruolo principale che ha l'Accademia Chigiana, cioè quello di docente del corso di clarinetto e quindi sarà l'occasione per ascoltare i giovani clarinettisti, i giovani talenti che escono dal corso di quest'anno e come io dico sempre i concerti finali dei corsi non è la fine di nulla ma anzi è l'inizio, sono i concerti di inizio, di avvio di una nuova carriera. Dopo nel pomeriggio alle ore 18 sarà invece il momento del concerto conclusivo del corso di composizione tenuto da Salvatore Sciarrino. Questo concerto è sempre un concerto di estremo interesse, richiama moltissimo pubblico anche perché è l'occasione per ascoltare i nuovi compositori, escono dal corso di Salvatore Sciarrino, vengono da tutto il mondo, il corso di Salvatore Sciarrino è richiestissimo, è frequentatissimo, è un'occasione straordinaria perché chi partecipa a questo corso ha la possibilità, oppure diciamo non tutti perché è un corso molto numeroso ma un certo numero di allievi ha la possibilità di realizzare, mentre è qui all'Accademia Chigiana durante il corso, una nuova composizione con un organico cameristico, con dei grandi professionisti, il quartetto Prometeo e alcuni solisti come Paolo Ravaglia, Carinetto, Matteo Cesari, Alflauto, grandi professionisti della contemporanea, ha l'occasione di realizzare una sua composizione sotto la guida di Salvatore Sciarrino, composizione che viene registrata in audio e in video con qualità super professionale dall'equipe, dal team dell'Accademia Chigiana e quindi esce dai corsi dell'Accigiana con un biglietto da visita di tutto rispetto ed è questo per noi una cosa molto importante, dare ai nostri allievi nei vari campi, strumento, voce, direzione d'orchestra, composizione, l'opportunità di vivere e di svolgere un'esperienza professionale unica all'Accademia Chigiana. Si esce dall'Accademia Chigiana, diversi da come si era rientrati, si esce come proiettati verso l'orizzonte della professione della musica. Chi vuole fare della propria vita, della musica, la propria vita, esce dall'Accademia Chigiana con un passaporto in mano per questo grande viaggio che lo aspetta. E di questo vorrei parlare proprio del corso, del concetto, del corso di composizione con Francesco Dillon alla mia destra, violoncellista, dicevo, che è l'anima davvero di questo laboratorio straordinario di creazione, di creatività, di nuove energie che nascono con il corso di composizione. Grazie Nicola, buongiorno. Sì, è un corso preziosissimo questo, come benissimo detto tu, il concerto è appunto la tappa finale, ma quello che succede in quell'aula fra un maestro unico come Salvatore Sciarrino, un maestro che, dico unico perché non è un maestro alla moda, ma è un maestro alla maniera antica, è un maestro di ascolto, è un maestro di sguardo, è un maestro di originalità, è un maestro che ti insegna ad allargare gli orizzonti. E questo secondo me è qualcosa di talmente prezioso che non si può nemmeno definire o contenere. Quindi anche la scelta degli studenti naturalmente corrisponde all'attitudine di Salvatore, quindi non abbiamo mai degli emuli del maestro, ma abbiamo una grande varietà di sensibilità. E questo è molto prezioso anche, perché oggi è un elemento interessante quello della varietà. Non ultima la presenza dei musicisti, noi che cerchiamo di avere un'attitudine propositiva, non ci limitiamo per scelta e per senso etico, non ci limitiamo a suonare bene queste partiture, rimanendo un passo indietro, ma poniamo delle domande, delle sfide, vogliamo che i ragazzi alzino le loro pretese, in qualche modo, che chiedano al musicista di interpretare le loro musiche, non di eseguire le loro musiche, ma di entrare. Immagino che sia molto importante il vostro ruolo, perché la scrittura della musica di oggi non è una scrittura normale, come una volta ascoltiamo un quartetto di Beethoven, si scrivevano delle note nere, dei pallini neri sul pentagramma, e più o meno l'interpretazione era quella, era un codice conosciuto da tutti. Oggi è diverso, no? Oggi le scritture sono infinite, noi cerchiamo sempre e ragioniamo molto su questo elemento della scrittura, noi li appunto li pungoliamo, ma sempre con tenerezza e delicatezza, perché è un lavoro anche difficile quello del compositore, li stimoliamo veramente a chiedere all'interprete di essere parte attiva, di uscire da questa abitudine un po' consumistica, di certo fare musica oggi, che invece qua in Chigiana osteggiamo duramente, ovvero deve essere un fatto creativo, deve essere un fatto vivo, deve essere un... andare oltre, no? Bellissimo. Beh, direi che creativo e andare oltre è proprio lo slogan della Chigiana, no? Poi questa settimana, veramente, è una settimana turbine, non credo, abbiamo delle giornate straordinarie. E quindi, chiuso al pomeriggio, anzi alle ore 18, l'incontro poi con il corso di composizione, con il concerto del corso di composizione, il concerto finale del corso di Salvatore Sciarrino, con il quartetto Prometeo, Matteo Cesare e Paolo Lavaglia, si apre, chiusa quella porta, se ne apre subito un'altra con una serratura, vero, Nicolò Supa, non uso una chiave, una serratura, non uso una parola a caso, per entrare nel mondo dell'opera lirica. E' veramente grande, emozionante, il lavoro che è stato fatto in questi giorni. Dovevate vedere, al Teatro dei Rinnovati, il Teatro dei Rinnovati sembrava letteralmente trasformato in un circolo del golf, no? Ci troviamo in un circolo del golf, dove è ambientato il signor Bruschino, dove è ambientato dalla regia di Lorenzo Mariani, dalle scene di Viglia Morlandi, dove è ambientato il signor Bruschino, ovvero, ossia il figlio per azzardo, di Gioacchino Rossini, un'opera bellissima, una delle farse più riuscite, devo dire, di Rossini. Non a caso, insieme alla Scala di Seta, è una delle cinque farse, è quella che è entrata maggiormente nei grandi repertori dei teatri d'opera. e per parlare di quest'opera e anche di come la sta vivendo l'Accademia Chigiana, di come il corso di direzione d'orchestra, il corso di canto che hanno dato vita al Chigiana Opera Lab, una vera realtà per ritornare a fare opera insieme, a mettere in scena l'opera lirica insieme, ce ne parla uno dei due direttori, faremo due recite, il 29 e il 30 di luglio, al Teatro dei Rinnovati, ce ne parla uno dei due direttori che è stato scelto dal maestro Daniele Gatti tra quelli che frequentano il corso di direzione d'orchestra, e quest'anno si tratta di Nicola Suppa, che molto volentieri abbiamo nostro ospite a cui chiedo qualche cosa su questa nuova produzione. Signor Bruschino, intanto, come diceva il maestro Sani, è un'opera di una bellezza unica, divertente, spassosa, con dei momenti davvero di una comicità unica, e poi anche con effetti sonori, mi viene in mente appunto l'ouverture particolari, esatto, lo sbattere all'archetto su una volta, diciamo, il lume dell'Eggio, cosa che appunto all'epoca fece molto scalpore e in successo dell'opera, che poi nella sua storia acquisì sempre più fama e notorietà. Comunque questo ormai è il mio terzo anno qui ai corsi di direzione d'orchestra dell'Accademia Chigiana e l'anno scorso ho già avuto l'enorme fortuna di debuttare l'occasione Fai il Ladro e quest'anno appunto debutterò appunto Signor Bruschino in questo straordinario teatro con una buca bellissima anche solo l'esperienza di farlo con due maestri del calibro del maestro Accocella e del maestro Gatti è una cosa incredibile anche perché loro ci guidano, ci supportano e ci danno tutto tutto quello che sanno, tutto il loro bagaglio esperienziale ce lo trasmettono e si sente tantissimo che vivono questa cosa dal profondo ed è meraviglioso. Benissimo, ti ringrazio molto ringrazio Nicolo Suppa che appunto è uno dei due direttori delle due recite del signor Bruschino in produzione che si avvale anche della partecipazione dell'Orchestra Senza Spine di Bologna è un'orchestra di giovani che è nata qualche anno fa a Bologna ed è una bellissima realtà e collabora con il corso di direzione d'orchestra come formazione in residenza dallo scorso anno questo anche per sottolineare che l'Accademia Chigiana è l'unica istituzione accademia di alto perfezionamento in Europa ad avere un'intera orchestra a pieno registro in residenza per il corso di direzione d'orchestra questa è una cosa che caratterizza questa accademia ed è veramente una diciamo importantissima un importantissimo strumento che viene messo a disposizione dei giovani direttori d'orchestra credo Niccolò Supra che non sia veramente sia una rarità per un giovane direttore d'orchestra avere a disposizione una formazione che può realizzare d'accordo l'opera di Rossini ma anche la quarta di Mahler quindi che arriva a un organico veramente pieno e questo credo che solo l'Accademia Chigiana possa garantirlo oggi tra le accademie europee e anche tra le pochissime nel mondo quindi e questa testimonianza anche di una profonda visione l'abbiamo raccontato in tanti momenti insieme al Maestro Sani insieme a Stefano Iacovello della volontà di mettere al centro i giovani talenti perché questo è sempre stata poi un elemento di forza assoluto della storia della Chigiana e a maggior ragione in questo momento portato avanti noi ringraziamo ovviamente Nicola Zupalo lasciamo andare alle sue prove puoi raggiungere il teatro e noi continuiamo invece a raccontarvi gli appuntamenti a partire da quello di sabato 30 luglio a Palazzo Chigi Saracini alle 19.30 per il concerto del corso di violino un altro bellissimo appuntamento maestro al quale seguirà quello di domenica 31 luglio ci spostiamo questa volta nella chiesa di Sant'Agostino alle ore 18 per il concerto del seminario di Live Electronics Sì abbiamo un bellissimo doppio appuntamento appunto come dicevi un attimo fa il concerto del corso di violino il giorno 30 conclude il corso di Ilia Gringles che è appunto uno dei più grandi violinisti del nostro tempo quindi anche questo è un appuntamento sempre diciamo che ci dà grande è molto atteso molto atteso molto frequentato questi concerti finali sono dei veri e propri momenti anche unici in cui abbiamo l'opportunità di ascoltare tanti giovani che poi diventano molto importanti subito negli anni successivi voglio ricordare per tutti il caso di Giuseppe Gibboni uscito dai corsi dell'Accademia Chigiana pochissimi due anni fa e subito ha giudicatosi il concorso Paganini il primo premio al concorso Paganini che è una delle massime manifestazioni al mondo per questo strumento oppure Andrea Obizo che è diventato subito dopo l'uscita dai corsi dell'Accademia Chigiana il primo violino dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia quindi insomma sono traguardi enormi e mi fa molto piacere che questi ragazzi possano conseguirli e quindi questo significa anche non solo che i corsi dell'Accademia Chigiana sono ancora oggi un passaggio determinante nella carriera di un giovane artista ma anche che c'è una scuola di cui siamo testimoni una scuola strumentare di cui siamo testimoni e di cui siamo anche come possiamo dire presenza concreta qui a Siena all'Accademia Chigiana che è molto molto importante insomma di grandissimo prestigio il 31 il 30 luglio alla sera la seconda recita del signor Bruschino al Teatro dei Rinnovati sempre con inizio alle 21 e 15 e planiamo sul 31 di luglio con due appuntamenti vale a dire alle ore 18 nella chiesa di Sant'Agostino il concerto del seminario di Live Electronics per quanto riguarda la composizione per quanto riguarda l'indirizzo compositivo il seminario ottenuto da Alvise Vidolin con Nicola Bernardini e Giulian Scordato in collaborazione con il Sample di Padova il centro di sonologia computazionale dell'Università di Padova Sample il laboratorio del conservatorio Pollini di Padova un corso che ci dà la possibilità così come abbiamo gli strumentisti in residenza gli ensemble in residenza il quartetto prometeo così come abbiamo l'orchestra senza spine eccetera abbiamo anche uno straordinario laboratorio con le massime tecnologie oggi disponibili per il Live Electronics installato per due settimane nella chiesa di Sant'Agostino che diventa uno spazio multidimensionale con una diciamo realizzazione acustica straordinaria e qui i giovani allievi del corso potranno realizzare le loro composizioni che faranno ascoltare eseguite dai giovani allievi di strumento della crema chigiana insieme all'elettronica questa è un'altra cosa importante perché per molti allievi dei corsi di strumento è un'opportunità straordinaria di entrare nel vivo anche dei linguaggi contemporanei e delle possibilità di elaborazione live cioè in tempo reale con le più interessanti tecnologie di oggi quindi è un'opportunità in più anche questa successivamente alle 21.15 restiamo nella chiesa di Sant'Agostino per incontrare un grandissimo interprete Anton Gerzenberg pianista strepitoso uno dei migliori giovani pianisti di oggi l'abbiamo ascoltato in un concerto insieme a Ilya Gringols qualche giorno fa a Palazzo Chigi Saracini questo è un concerto invece che si muove tra passato e presente e ci riporta all'interno del tema del silenzio eseguirà quattro prime 33 di John Cage il famoso pezzo silenzioso per eccellenza quello che è l'emblema del rapporto tra il silenzio e la musica il pezzo in cui il pianista si mette la tastiera e per 4 minuti e 33 esatti suona il silenzio e cioè non suona ma non vuol dire che non emette suono perché non solo emette il silenzio ma nel silenzio ascoltiamo tutto ciò che circonda in quel momento lo spazio di ascolto è come se noi guardando un quadro ci concentrassimo sull'esterno del quadro il quadro è bianco e l'esterno del quadro ci dice ci dà informazioni su quello che è il possibile contenuto del quadro quindi è un silenzio in realtà pieno è un silenzio che ci porta ad ascoltare il paesaggio sonoro che circonda una composizione quando normalmente viene eseguita e successivamente un grandissimo pezzo della tradizione Schumann Gesanghe Gesanghe der Frue i canti del mattino del primo mattino è una delle più belle composizioni per pianoforte di Schumann ed è molto interessante questo richiamo al silenzio al rapporto con il primo mattino che è un momento in cui il silenzio comincia a caricarsi di suoni per poi ascoltare un bellissimo pezzo di Luigi Nono lo ricordiamo ancora il bellissimo ciclo lo abbiamo alle spalle lo avremo alle spalle ma ancora a questo momento questa specie di l'ascito sofferte onde serene una bellissima composizione per pianoforte dedicata a suo tempo da nono a Maurizio Pollini è scritta realizzata in collaborazione con Maurizio Pollini di cui mantiene la memoria nella parte per nastro magnetico infatti il pezzo è per pianoforte e nastro magnetico adesso si chiama supporto digitale ma in realtà all'origine era il nastro magnetico che scorreva sulle bobine per concludersi con il capolavoro di uno dei compositori italiani di oggi più interessanti Marco Stroop vive tra Parigi e Stoccarda insegna a Stoccarda ma vive a Parigi dove lavora all'IRCAM che è uno dei centri più importanti per le nuove tecnologie e la musica il suo traiettoria deviata dialoghi per pianoforte e sistemi digitali è veramente uno dei capolavori assoluti della musica ad oggi un pezzo molto difficile di grandissima complessità esecutiva avremo Marco Stroop con noi Marco Stroop partecipa al seminario anche della Chigiana lavorerà con i giovani allievi del corso di Live Electronics e con Anton Gerzenberg realizzeranno questa splendida composizione traiettoria deviata dialoghi il 31 luglio l'appuntamento nella chiesa di Sant'Agostino alle 21.15 con Anton Gerzenberg al vicevidro di Nicola Bernardini e da un meraviglioso appuntamento ve ne raccontiamo un altro quello di lunedì prima bovosto ci spostiamo in una delle piazze più belle nella città di Siena piazza Provenzano questo a testimonianza di come la Chigiana abbia abbracciato anche un progetto di bellezza nel coinvolgere tanti luoghi della città tanti luoghi nei dintorni delle terre delle terre senese vi ricordo il progetto con il Chianti quindi la bellezza nella bellezza piazza di Provenzano alle 21.30 uno special event quello intitolato Another Silent Way Chigiana meets Siena Jets e questo è un altro bellissimo bellissimo abbraccio di arte di cultura che l'Accademia Chigiana fa con un'altra importante e storica istituzione della città legata alla musica Siena Jets maestro sì certo ma subito la parola a colui che rappresenta un po' la sintesi del rapporto tra Accademia Chigiana e Siena Jets Stefano Iacoviello che è con noi e che sta diciamo da mesi lavorando molto intensamente per costruire questo bellissimo progetto che proprio nel titolo ci ricorda uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi Piazza Provenzano bisogna dirlo è il luogo dove in questi giorni si stanno svolgendo proprio i concerti dell'estate di Siena Jets quindi è proprio la testimonianza di un abbraccio fra l'Accademia Chigiana e Siena Jets questo incontro Another Silent Way richiama In a Silent Way di Miles Davis che però verrà messo a contrasto con un'altra fa contrasto diciamo di fronte a confronto con un'altra figura un altro artista fondamentale nella storia del jazz Kenny Wheeler perché al di là delle differenze Miles Davis e Kenny Wheeler due grandissimi trombettisti hanno sviluppato tutta la loro parabola artistica in continuo dialogo col silenzio in maniera differente ma appunto è proprio interessante vedere come questa indagine sul silenzio viene svolta nell'ambito delle musiche improvvisate e abbiamo due set il primo set appunto dedicato a Miles Davis vedrà sul palco Stefano Battaglia e Fulvio Sigurta che conducono una suite dal titolo Another Silent Way insieme a Giuseppe Ettore al contrabbasso Antonio Caggiano alle percussioni la presenza del talento straordinario Evita Polidoro ormai batterista diciamo ormai al di fuori dei corsi ma che è stata una un'allieva diciamo premiata di Siena Jazz e Francesco Panconesi altrettanto eccellente sassofonista la suite Another Silent Way è praticamente un modo di rileggere la musica di Miles Davis e di Joe Zavinul che è stata avuta un ruolo fondamentale nella produzione di quel disco che segna un po' diciamo un momento di transizione nella carriera di Miles Davis da quello che noi identifichiamo così in maniera volgare come jazz tradizionale in qualche modo la svolta diciamo elettrica all'incontro con le sonorità elettriche del rock e poi via via andando verso il pop ma il lavoro di Miles Davis è un lavoro di sottrazione è un lavoro che mira a un'economia di mezzi sempre progressiva sempre maggiore per portare la musica verso un concetto di astrazione dove appunto intorno alle poche note della tromba una sottrazione sia a livello dello sviluppo melodico sia a livello del timbro pensate Miles Davis è famoso per il suono della tromba con la sordina quindi non sentire la tromba eppure appunto intorno a questo piccolo elemento della tromba che si fa sempre più piccolo intorno attraverso l'interplay si costruisce un'orchestrazione sempre limpida sempre perfettamente leggibile ed è appunto questo è il percorso di Miles Davis che cambia continuamente dalla nascita del cool il suo disco diciamo il primo disco veramente importante è Birth of the Cool dell'inizio degli anni 50 e poi fino agli ultimi anni della sua vita dove appunto dialogava con il pop e con le nuove forme di produzione Kenny Wheeler d'altra parte fa un altro percorso dall'altra parte dell'Atlantico fondamentalmente perché Kenny Wheeler è canadese di nascita ma ha fatto la sua vita artistica fondamentalmente in Inghilterra e poi in Europa ampiamente in Europa e Kenny Wheeler invece ha indagato il silenzio negli echi che vengono dalla musica tradizionale del nord Europa ma non solo perché queste forme di musica popolare della Britannia o della Scandinavia in realtà dialogano fortemente si intrecciano con una profonda sapienza della scrittura musicale accademica cioè quella che è la riflessione della musica scritta della musica appunto colta per così dire anche un aggettivo sbagliato ma comunque la musica diciamo considerata classica rispetto al jazz ma non c'è nessuna differenza proprio perché Kenny Wheeler sublima la differenza fra i generi e ci propone una musica assolutamente innovativa diciamo che Kenny Wheeler ha disegnato un orizzonte artistico verso cui moltissimi poi artisti moltissimi musicisti hanno orientato le loro ricerche musicali e rappresenta oggi una esperienza fondamentale nella musica del novecento l'altro rapporto che lega Miles Davis a Kenny Wheeler è l'eclettismo e la capacità di circondarsi di collettivi che hanno dato un contributo fondamentale all'elaborazione della loro proposta artistica e così abbiamo già detto di Zavinul accanto a Miles Davis vorrei ricordare il compianto John Taylor maestro di pianoforte di Siena Jazz a cui siamo tutti quanti molto legati affettivamente personalmente e che è stato appunto il partner fondamentale per Kenny Wheeler nello sviluppo del suo pensiero musicale ma anche Dave Holland diciamo che invece ha lavorato sia con Miles sia con Kenny Wheeler in tutta la sua carriera e quindi se nel primo set abbiamo visto questo gruppo di docenti e allievi o ex allievi di Siena Jazz dell'Accademia Chigiano nel secondo set abbiamo il maestro Greg Burke al pianoforte che guiderà un ensemble formato dal trombettista Jacopo Teolis dalla voce di Chiara Chistè la batteria Simone Brilli il contrabbasso di Stefano Zambon per appunto una suite a Lorenzo Simoni al sax contralto per una suite di brani di Kenny Wheeler che un po' delineano tutto il suo percorso di sviluppo il suo pensiero musicale dagli anni 70 fino agli ultimi anni della sua vita nel 2000 e che è un percorso legato anche allo sviluppo di un altro possibile partner dell'Accademia Chigiana che è l'ECM con Manfred Aich che è il produttore perché Kenny Wheeler ha messo un mattone importante nella costruzione del sound di ECM e non solo perché con Kenny Wheeler poi hanno suonato Keith Jarrett Jack Dejonette Dave Holland Bill Friesel e tanti altri musicisti che hanno contribuito alla creazione dei brani che ascolteremo e che hanno contribuito anche alla costruzione del suono dell'ECM Chigiana Mitzina Jazz è temporalmente cronologicamente in una posizione del calendario in una posizione astrale importante perché fa coincidere esattamente la metà del lungo festival senese con la svolta fra le due settimane di corsi estivi di Siena Jazz quindi esattamente il punto medio dove si incontrano dove si incontrano Chigiana e Siena Jazz è un'attività del polo musicale senese testimonia appunto quello che è l'obiettivo del polo musicale senese che riunisce Chigiana, Siena Jazz e l'istituto Rinaldo Franci nella offerta di un percorso di didattico un percorso di formazione musicale che offra agli allievi la possibilità di integrare le proprie competenze al di là dei generi ad un livello diciamo di alta eccellenza e dopo questo meraviglioso appuntamento ricordo ancora una volta lunedì 1 agosto in piazza Provenzano alle 21.30 vi ricordo come sempre che potete comodamente acquistare e prenotare i biglietti all'interno del sito dell'Accademia a Chigiana andiamo a raccontarvi gli ultimi due grandi appuntamenti di questo percorso che vi abbiamo raccontato in questa puntata due appuntamenti diversissimi uno ci testimonia quello che vi anticipavo prima del rapporto con i territori con la bellezza dei territori in particolare il territorio del Chianti per la serie appunto proprio legata a coniugare musica con scenari del meraviglioso territorio del Chianti il 2 agosto martedì presso Rocca delle Macie a Castellina in Chianti si terrà prima l'aperitivo e poi alle 19.30 il concerto questo rientra appunto nel progetto del Chigiana Chianti Classico Experience giovani talenti chigiani nelle terre del Chianti Classico in questo caso sarà un concerto dell'ensemble di Contrabassi in collaborazione con il consorzio Vini e Chianti Classico e poi l'altro appuntamento che chiude questa nostra puntata è un appuntamento dolcissimo meraviglioso Romain Zublie martedì 2 agosto la chiesa di Sant'Agostino 21.15 siamo all'interno della Legends e suonerà Sang Won Young al violoncello Enrico Pace Litz e Chopin non potevamo chiudere in maniera migliore maestro una grande settimana che si conclude in maniera stellare in maniera stellare un concerto da non perdere Litz e Chopin due artisti due compositori famosissimi beniamini di tutto il pubblico appassionato del grande repertorio musicale saremo a Sant'Agostino 2 agosto 21.15 due grandi interpreti Sung Won Young violoncellista coreano tra i maggiori di oggi appena inciso per la DECA uno splendido cofanetto dedicato proprio a Litz e Chopin e stanno lavorando sulle sonate di Beethoven Enrico Pace pianista celeberrimo direi che un altro appuntamento targato a Caremia Chigiana targato Chigiana International Festival assolutamente da non perdere per una settimana leggendaria grazie è una settimana leggendaria noi continueremo a raccontarvi le leggende dell'Accademia Chigiana un grande grazie ovviamente al direttore artistico al professor Iacovella a tutti gli ospiti che sono intervenuti Anna Passarini Samuele Vannoni per la parte tecnica con noi oggi io vi ricordo che potete rivedere tutte le interviste con gli artisti nelle pagine social dell'Accademia Chigiana nell'apposita sezione Accademia Chigiana all'interno del web tv di Canale 3 noi torniamo la prossima settimana per continuare a raccontare la grande musica From Silence